Voi festeggiate i vostri dieci anni di vita, mentre l'intera Chiesa Cattolica sta celebrando due sinodi sulla famiglia. Le famiglie numerose ci ricordano il sogno, ci ricordano il bisogno del futuro, ci ricordano che è più bello stare assieme che da soli. E' una grande testimonianza da fare, non c'è bisogno che ne parliamo e allora voi, famiglie numerose, dovete mostrare ancora più la gioia di essere come siete. Ma voi state facendo il vero sinodo, perché il vero documento della Chiesa sulla famiglia siete voi. Se voi testimoniate la gioia, voi siete la lettera di Papa Francesco al mondo intero. Una lettera ricca, bella, luminosa e colorata, perché attraverso di voi tutti noi possiamo dire, vedete che non solo è possibile, è anche bello fare famiglia, soprattutto quando è numerosa.